Il Signore vi dì la pace e ben rivisti in questo nostro ultimo appuntamento di parole che curano almeno di questa serie. Ci eravamo lasciati con una domanda e ora cosa dobbiamo fare? Avendo saputo qual è il più grande pericolo, avendo saputo qual è il più grande desiderio non solo di San Francesco ma anche del Buon Dio, che cosa dobbiamo fare? E allora ci possiamo dire ma se hai compreso, se hai compreso che uno solo è buono, ripercorriamo un po' alcune delle parole che ci siamo scambiati, se abbiamo detto e ascoltato e compreso che uno solo è buono, che uno solo è il bene, tutto il bene, il sommo bene e che questa bontà la metti a nostro servizio, e se abbiamo compreso che ci ama fino a dare la vita per noi, se abbiamo compreso che Lui dà tutto per noi, ha dato se stesso senza risparmiare niente di sé per noi, se abbiamo capito che noi siamo il suo amore, che noi siamo coloro che Lui ama e ha creato per darci, per aprirci le porte del suo cuore, che si chiama Paradiso. se abbiamo capito che invece c'è anche il grandissimo pericolo di perdere tutto questo, e di perderlo non solo in questa vita, ma di perderlo per sempre, e che si chiama Inferno. Vivere senza questa meraviglia, vivere senza la bellezza, la meraviglia di Dio, essendone privati per sempre, questo crea un dolore così grande, una lacerazione così grande, che viene chiamata la seconda morte. Se hai capito che sta a te scegliere da che parte stare e chi servire, se servire Lui che è Dio, l'unico, il buono, il sommo bene, colui che è verità e giustizia, oppure ascoltare chi vuole mettersi al suo posto, dicendo che ti darà vita, salute, un aiuto per campare, purché tu non abbia nel cuore colui che è, ma cerchi la salvezza nell'uomo, punto. Se hai capito che c'è in ballo molto più di quanto tu possa pensare e immaginare, e allora San Francesco conclude il suo cantico e dice Laudate, et benedicitemi Signore, et ringraziate, serviateli con grande umilitate. Dice guarda la meraviglia in cui sei stato messo, guarda in quale giardino ti ha posto, guarda quanto sei stato amato, considera a cosa sei destinato, e allora dallo sguardo sgorda il canto di gioia, laudate, ringraziate, benedite, e poi concretamente cammina nella sua strada e serviatelo con grande umilitate, con grande umiltà. Il Signore vi benedica, mostri a voi il suo volto e abbia misericordia di voi, rivolga verso di voi il suo sguardo e vi donne la sua pace, e vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio, e Spirito Santo. Amén.